E come possiamo fare il bagno in quelle acque mortifere? Come possiamo essere felici quando sotto ai nostri occhi galleggiano cadaveri? Come possiamo ancora festeggiare con santi madonne in processione? Mentre poveri cristi quotidianamente sono abbandonati alla loro triste sorte. Nel più grande cimitero del mondo si celebra la morte indiretta. Nel Mediterraneo una terra promessa per tutta l'umanità una sconfitta. Nel più grande cimitero del mondo resta inascoltata ogni preghiera. La storia non ci ha insegnato proprio nulla. Si continua a spruzzare il veleno, a predicare odio con il rosario in mano. Ci sarà per tutti il giudizio ed ognuno pagherà al suo prezzo. Non vorrei essere nei panni di chi criminalizza chi salva le vite, umilia chi prova dolore, infierisce su chi muore nel mare e punisce chi prova ad aiutare, Inventandosi magari una legge speciale che soffoca ogni forma d'amore. Non vorrei essere nei panni di chiudere, Inventandosi magari una legge speciale che soffoca ogni paura di chiudere, Inventandosi magari una legge speciale che soffoca ogni paura di chiudere, inventandosi però un sito. Inventandosi Vijayanji